E Giacchetti che apprezzare io è? È il PD, io non faccio una questione più di nomi, le dico la verità. Noi abbiamo Virginia Raggi a Roma, l'ultimo candidato che manca è quello di Napoli che ci sarà nella prossima settimana o nell'altra. Noi andiamo avanti per la nostra strada sui nostri temi. Il Partito Democratico, così come il centrodestra, hanno avuto già la loro opportunità di governare le grandi città italiane e ce le hanno restituite in queste condizioni che non devo dire io, le conoscono già i cittadini. Quindi che sia un nome o un altro è sempre uno di quei partiti che ci ha massacrato in cui non ripongo più speranze ma sarebbe l'arte dei pazzi continuare a dare fiducia a chi ha già avuto più di un'opportunità negli ultimi 30 anni.